Ciao a tutti ragazzi, continuo la serie di video su come trovare lavoro, come creare opportunità di guadagno e di reddito dal niente anche se vivi in un paese remoto e sperduto dove ti dicono qui non c'è lavoro e anche se pensi di non aver mai fatto niente e anche se non hai alcuna esperienza, lavorativa pregressa quindi oggi scopriamo come trovare lavoro su LinkedIn allora è fondamentale che tu abbia studiato bene, ascoltato e riascoltato il video precedente quello di su come crearti il tuo personal branding e come trovare lavoro da zero adesso partiamo, 5 consigli per trovare lavoro su LinkedIn se ancora non lo sai LinkedIn è la piattaforma professionale dove ci sono oltre 800 milioni di utenti e quasi tutti sono o manager, collaboratori, freelancer e in generale professionisti di tutti i settori lavorativi o addirittura le aziende, ci sono più di 50 milioni di aziende su LinkedIn attenzione, con questo lavoro che ti descriverò qui, con queste attività che ti descrivo qui con questi 5 passi, non solo potrai trovare un bellissimo lavoro o tante opportunità lavorative diverse fra 3 o 6 mesi o magari sei fortuna anche prima ma creerai un patrimonio, perché? perché un profilo LinkedIn ben realizzato vale oro è veramente un asset, sarà veramente un tuo punto di forza che varrà come una miniera d'oro per tutto il tuo futuro ok? non a caso sto per uscire, o forse è già uscito se lo vedi più tardi questo video con un libro che si chiama I segreti di LinkedIn dove spiego in tutto e per tutto ogni trucco e consiglio su come sfruttare LinkedIn al massimo e se sei ancora in tempo, qui sotto c'è un gruppo Telegram dove puoi entrare per avere il libro a meno di un euro allora, iniziamo, prima di tutto, premessa, punto zero dei 5 step scegli un settore, perché? perché il mondo è governato dagli specialisti gli specialisti sono coloro che dimostrano tutti i giorni l'eccellenza in uno specifico settore quindi che cosa vuol dire? non puoi essere di tutto un po' ok? quindi scegliene uno che sia programmazione web, blockchain, cloud computing, vendite, marketing e online marketing quindi social media, ristorazione, hotellerie, turismo scegli un settore e diventa il meglio che ci sia in quel settore specializzati, studia, aggiorna, spacca il capello su quel settore quindi abbiamo scelto un settore, ce l'hai già? se non ce l'hai e stai partendo da zero, riguarda intanto il video precedente e poi riascoltati tutte queste cose che appena hai detto perché programmazione web, blockchain, cloud computing, vendite, marketing e online marketing ristorazione e hotel, turismo e poi aggiungo video editing sono alcuni tra i lavori, barra competenze, barra settori dove in assoluto si cerca di più lavoro dove si cercano di più collaboratori te lo devo dire che in tante città del mondo si fa una fatica esagerata a trovare camerieri e capostala di alto livello ragazzi stiamo parlando di lavoro che in certi posti pagano da 2-5 mila euro al mese quindi non dico che è il lavoro della vita di tutti però caspita, se uno ha deciso di lavorare nel mondo della ristorazione e mi dice che nel suo paesino disperato nella provincia più remota di chissà quale regione italiana non c'è lavoro io ti dico che se vieni a Dubai è un cameriere di un certo livello lo strappagano ma se anche vai a Milano io do agli amici ristoratori che sono pronti a coprirti di soldi se sei una persona affidabile, onesta, sobria e grande lavoratrice ok? allora partiamo primo step 1. Ottimizza il tuo profilo LinkedIn non ce l'hai? esci da questo video e vai a creare un profilo LinkedIn ma che stai aspettando? folle! allora la cosa più importante del tuo profilo LinkedIn non sono le referenze non sono le competenze che sono comunque molto importanti veramente non è la storia dei tutti i tuoi lavori precedenti è la foto devi fare una bellissima foto con il viso in primo piano quindi barba, trucco, parrucco perfettamente agghindati e vestiti come se stessi andando all'incontro con l'amore della vostra vita piuttosto che al primo colloquio di lavoro con Nilo Musk mi raccomando sfondo neutrale nessuna altra persona visible in foto la faccia bella grande cioè in quel cerchietto magico che ti propone LinkedIn dove mette la tua immagine c'è tutto il segreto veramente per fare successo su quella piattaforma una bella foto perché io dico uno che non è capace di mettere una bella foto su LinkedIn io non me lo calcolo neanche di striscio stiamo scherzando? ancora per il profilo una headline c'è il titoletto una headline rilevante il titoletto che va vicino alla tua faccia che nella maggior parte dei casi le persone leggeranno quando vedono un tuo contenuto ed è anche la prima cosa che vedono ogni volta che accedono al tuo profilo per qualsiasi motivo hai poche centinaia forse 150 pochissimi caratteri a disposizioni non scrivere tipo CEO di me stesso amministratore delegato at myself oppure che ne so magazziniere no scrivi che cosa puoi offrire agli altri esperto di logistica per la tua azienda ti offro nuove competenze e l'opportunità di aumentare le tue vendite ti offro nuove strategie per il tuo marketing online ok di cosa offri parla al tu non all'io io sono io faccio io questo io sono il più bello il più alto mi frega niente a nessuno cosa puoi dare tu agli altri ok e poi mi raccomando il sommario cioè quella parte un po' più lunga di testo che puoi scrivere dentro il tuo profilo non deve essere messo lì a caso deve essere una vera e propria lettera di vendita con la quale ti vendi al mondo con la quale vendi spudolatamente le tue capacità le tue abilità e non hai nessun timore a spiegare perché sei un'eccellenza in un determinato settore ok poi secondo punto pubblica un sacco di contenuti perché? perché su LinkedIn tu puoi cercare attivamente le persone con cui creare una rete di contatti ma è molto più potente farti trovare e come fai a farti trovare? pubblica un sacco di contenuti studi ogni giorno per il tuo settore già lo devi fare ne abbiamo parlato nel video precedente se non ti formi ogni giorno sarai superata superato dalle persone che invece lo fanno che studiano tutti i giorni oggi tu potresti essere veramente l'analista programmatore numero uno al mondo di PHP più MySQL ti fermi tre mesi e ti superano uno ma cento persone perché in tutto il mondo ce ne sono sette miliardi ok pubblica solo contenuti inerenti al tuo settore non cazzeggiare su LinkedIn non si pubblicano foto di Gattini della tua collezione di Franco Bolli contenuti inerenti al tuo settore analizza le novità di scenario condividi contenuti di leader del tuo settore ok dei metrapansé delle persone più rilevanti aggiungendo sempre un tuo commento sobrio e serio e con una bella considerazione che arricchisca ulteriormente la conversazione e partecipa molto alle conversazioni delle persone più rilevanti più avanti c'è un punto in cui ti spiega esattamente come aumentare e migliorare la tua rete di contatti allora terzo punto aggiorna le tue esperienze lavorative perché non c'è peggiore errore che avere un profilo non aggiornato come il mio dove non ho ancora scritto per esempio che adesso non sono più direttore di Tom Sardor ma che sono in altri ruoli per le mie aziende ma va bene d'accordo inserisci non solo il ruolo che hai fatto tipo responsabile amministrativo presso Canestracci e SPA no scrivi cosa hai realizzato sono entrato in Canestracci e SPA e ho completato il processo di digitalizzazione documentale e ho portato l'azienda da web 1.0 a web 3.0 che ne so ho detto una cosa a caso ok spiega le case history cosa hai fatto effettivamente che ha portato valore nei posti di lavoro precedenti quali che essi siano ok ho offerto al Meddolas di quartiere un'accoglienza e un sorriso unici che prima mancavano che ne so anche nei lavori tra virgolette più semplici si può fare la differenza e poi non hai mai lavorato come ho detto nel video precedente riguardalo aggiungi le tue esperienze di volontariato e i tuoi progetti personali se non hai progetti personali nel settore che hai scelto abbiamo dei problemi ok ne parliamo nel video precedente che devi studiarti a memoria quarto ogni giorno ampia la tua rete di contatti di LinkedIn perché come dicono gli americani il tuo network è il tuo net worth cioè la tua rete è il tuo patrimonio più contatti hai nella tua rubrica professionali cioè chiaramente quelli con cui giochi a tennis magari meno più contatti professionali hai nella tua rubrica e più hai soldi in banca è maggiore il tuo conto corrente non ci credi? provaci provaci prova a passare da 10 a 500 a 5.000 contatti su LinkedIn tanto il massimo è 30.000 hai tutto il tempo e dimmi se non c'è stato un riflesso sui tuoi conti correnti fammelo sapere ci vediamo fra 6 mesi ok scegli un settore specializzati entra nei gruppi non sono ancora potenti come quelli di Facebook ma sono molto utili i gruppi di settore ci sono quelli per l'online marketing per il giardinaggio o magari per il turismo gli hotel per ogni settore ci sono dei gruppi identifica chi sono i leader fondamentali di quel settore del gruppo interagisci con loro poi nei gruppi hai anche la possibilità incredibile di poter mandare dei messaggi privati che su LinkedIn altrimenti non puoi fare se non sei in contatto di primo livello con una persona o se non spendi per avere l'abbonamento premium quindi è fondamentale entrare nei gruppi e partecipare alle conversazioni aggiungi tutte le persone rilevanti del tuo settore e personalizza l'invito di collegamento mi raccomando non schiacciare collegati e basta aggiungi una nota aggiungi una nota e in quella nota spiega sempre cosa puoi fare tu per quella persona fai dei complimenti sinceri ho visto il tuo lavoro ho letto i tuoi post mi è piaciuto un sacco quello che hai scritto poi mi raccomando fai in modo che veramente tu abbia anche partecipato a quelle conversazioni e fai complimenti sinceri collegati solo con persone che veramente stimi ho letto quello che hai fatto complimentissimi io veramente vorrei lavorare anche gratis per te cosa posso fare per arrivare nella tua azienda e dare valore dimmelo ti prego ok offriti venga a lavorare tre mesi gratis solo per imparare da te ok offriti dici non riesco a collegarmi non ho contatti con nessuno parto da zero vai agli eventi d'avvio del tuo settore prendi il tuo telefono in mano prendi l'applicazione e obbliga tutti ad aggiungerti sul link sul posto usa il QR code c'è una funzione del tuo link sulla mobile app per cui anche se una persona non è primo secondo livello terzo non mi ricordo poi quanto è il limite massimo per collegarsi la puoi comunque inserire nella tua rete vai agli eventi d'avvio per conoscere persone e poi creati una routine quotidiana cioè mettiti proprio in agenda che ogni giorno fai dai 30 a 40 minuti su linkedin ampliare la rete pubblicare il contenuto del giorno lavorare 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 per farti notare per far crescere il tuo personal branding su linkedin quinto step mi raccomando cura la tua presenza così come stiamo facendo su linkedin su ogni social perché perché oggi i reclutatori i cosiddetti head hunter cioè anche quelle aziende che di lavoro propongono un servizio a tutte le società di reclutamento di persone cosa fanno? non è che si limitano a guardare il tuo curriculum anzi il curriculum magari neanche lo calcolano o lo sfogliano proprio al volo per poi andare a sbirciare la tua vita su tutti i social quindi magari hai ottimizzato linkedin la foto perfetta il profilo ben fatto le tue referenze scrivi dei contenuti esagerati fai dei video di primo livello mondiale sulla ristorazione e poi su facebook e instagram pubblichi il video di quando ubriaco hai vomitato 13 volte quella notte in cui hai fatto sbisboscia con gli amici no? oppure su instagram e facebook ti metti a usare linguaggio scurrile fai foto sconce insomma ti metti in cattiva luce rispetto a un possibile reclutatore io stesso guardo tutti i social e di fido delle persone che fanno attività a mio parere insomma come dire disdicevoli ok? cioè se io ho davanti una proposta di lavoro una candidatura di una persona e guardo e vedo che su facebook questo va che ne so sui gruppi e sui post dove si parla di calcio a bestemmiare e insultare quelle delle squadre avversarie e io lo scarto ma non mi interessa ma anche per esempio io sono milanista lui va a insultare interisti ai juventini e dico dai grande è uno dei nostri no lo scarto io lo scarto vedo una persona che appunto si mostra in pose disdicevoli fa uso di volgarità lo scarto oggi la nostra presenza sui social le nostre foto quello che pubblichiamo le nostre storie sono un elemento chiave del nostro personal branding e nove volte su dieci un'azienda moderna cioè non parlo del solumiere di quartiere un'azienda moderna ti assumerà in base al tuo personal branding online e ti assumerà oppure valuterà la tua candidatura solo se online vede qualcosa che gli piace ma se vede qualcosa che non gli piace ti scarta immediatamente e attenzione quando tu andrai al primo colloquio tu non conoscerai le persone che troverai davanti a te beh a meno che non sia proprio una mina su LinkedIn allora ti sei studiato tutto e scoperto su LinkedIn chi sono per esempio del reparto risorse umane e sai addirittura chi sono i loro reclutatori ok ma detto questo tu non saprai chi ti troverai davanti ma loro ti conosceranno già bene perché avranno spulciato Instagram TikTok YouTube LinkedIn Facebook ogni possibile piattaforma online avranno cercato il tuo nome e cognome su Google avranno spulciato esplorato investigato ogni cosa che si dice di te la tua reputazione online che a me piace più chiamare il tuo personal branding online è fondamentale quindi mi raccomando guarda e riguarda questo video guarda e riguarda quello precedente e ti assicuro da 3-6 mesi vai a controllare il tuo conto corrente e torna qua a dirmi se non è aumentato rispetto a prima rispetto a prima rispetto a prima